mi trovavo al nord dentro una gelateria mi sono convinto ad entrare per prendere un gelato quello mi ha detto vuole il cono piccolo medio piccolo medio mi ha dato un cono con due palline di gelato uno per gusto io l'ho guardato io ho detto questa quantità il mio gelataio me la da per capire che gusto è però ormai mi aveva dato quel cono con due palline con una leccata mi tiravo il primo gusto con la seconda leccata il secondo gusto e già ho gelato e ha finuto lui mi guarda ma in sicilia siete abituati male abituati male ho detto queste coppette che avete sono inutili in sicilia la nostra coppetta è chissà cacca non avete dove andare gelato in sicilia